Io direi adesso di ritornare sui nostri amici Bruno e Feder Perché è il momento? Perché è il momento della loro rubrica nello studio A113 Esatto, e oggi abbiamo appunto, come abbiamo anticipato, una puntata in uno stile un po' più American Che dire, abbiamo due artisti, abbiamo avuto l'onore di conoscere e di registrare anche un videoclip Perché sono due artisti nel campo appunto della musica E che dire Volevamo averceli come ospiti ma purtroppo sono nella loro tournée mondiale E quindi niente, ci accontentiamo del video che abbiamo girato questa settimana Di cui comunque siamo molto molto fieri E chiediamo alla regia di mandarlo Rap, The Gap, yo Ecco Feder qui per voi, in diretta su The Gap RTV, network anche Bruno dentro al set Con Andrea Botti e Cristelli qui con noi A parlare che parlare di distanze fatti tuoi Quello che non sai noi te lo raccontiamo Quello che non vuoi sapere noi comunque lo diciamo Tipo stile ne fa nel periodo dopamina New sport, viaggio, cucina, eventi lungo in guina Fusardi scelgo testi, le lancio sfera poche Quando si tratta di essere in voga di migliori non ve ne Se ti piace viaggiare allora segui la cammilla Se ti piace dormire allora prendi una pastiglia Se ti piace mangiare non ti devi preoccupare Tanto c'è Ale qui al canale che ti sfama una famiglia www.detrattinoguer.tv E la mail questa volta la devi dire tu Info at detrattinoguer.tv E stai ben tranquillo che da questa volta non la sbaglio più Segui Bad News se ti piacciono gli eventi Dani Zobetti per quelli più eleganti E se ti viene da ridere fra i denti Tranqua c'è Tolino che coglie quelli stanti Andrea Vacchi per lo sport con Stefano Lucignoli Tanto se la smazzano a praticare lì da soli Alice Fedeli, Lia, Coca Federica, Signorelli Andrea, Gallin, Colla, Rossi Non ci sono solo quelli Fabio Imperatrice con il fitness Lui ci ha fatto un business Ma io lo uso solo come antistress Con Matteo Belotti in regia Lui ci ha dato il via Fabio Piozzi all'audio e così via Tesche ci riprende senza fretta Rappo a macchinetta Intanti a spartirci la diretta Lo staff è al completo Lo show appena iniziato Possiamo far partire lo stacco preparato Yo, yo, rap the gap, bro Yo, 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 bro Yo, rap the gap Rap the gap Rap, rap, yo, gap Yo, rap the gap Yo, questa è la parte che si fa più interessante Quando il discorso non è più così importante Quando parli 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 E non parli parli quando parli se non parli Usi le parole solo per il loro suono E la rima viene come il lampo dopo il tuono Quando sei incazzato basta essere più arroganti Tiri un pugno in camera e stringi forti i denti Quando un rapper figo fa finta di improvvisare E noi imbambolati come idioti ad ascoltare Meglio che la smetti se non vuoi finire male Oppure su 72 c'è il gap da guardare E poi che pace Rap the gap Yo Rap the gap Yo Grazie a tutti Bene, un applauso, un applauso Davvero bravissimi, complimenti Continuare, volevo, è doveroso, un saluto in regia Regia? Registi? Registi? Eccoli splendidi! Fantastico Detto questo abbiamo velocissimamente qualche messaggio da leggere Che ci state bombardando Allora, fanno i complimenti a Andrea Fusardi per la sua giacca Che è molto fashion e vogliono sapere dove l'ha comprata Eh, lì è un attimo È un segreto Fanno i complimenti al cantante Sì Piace molto, molto bello il servizio sulla moda Sperano che lo, Rosalba, spera che lo facciamo ogni puntata Io E poi cosa ci dicono ancora, vediamo Tante belle cose però Bravo Viaggio Bellissima poesia da Barbara Hanno appena scritto in questo momento Bravi rappers Eh, rappers Esatto Yo Poi la Eli come sempre dice che io e Feder siamo i migliori Ah, e questa volta possiamo anche svelare la faccia che ha questa ragazza Oh Ciao Eli Ci denuncerà però No, visto che ci scriverà probabilmente tutte le puntate Perché è un'assidua fan di The Gap Soprattutto di Rap The Gap Assolutamente Poi la Joe fa i complimenti al servizio sulla Notte Bianca Perfetto E grande Camilla dalla Lilli Complimenti a tutti per il programma Un saluto particolare a Andrea e Karim da Mary E per il momento ci fermiamo qua Che dire, www.detratinogap.tv Info è... Det... Bravo, bravo È toccata l'ultima questa volta Bravo Punta app, casebook Tutto in sovraimpressione Ragazzi scrivete A dopo Con un altro servizio